Sono dieci gli anziani dell'RSA di Buccine che in un solo mese hanno perso la vita. Tutti erano positivi al Covid-19. Il primo decesso circa quattro settimane fa ed adesso i parenti delle vittime cercano chiarezza su queste morti ed hanno presentato così un esposto alla caserma dei Carabinieri di San Giovanni Valdarno che sarà destinato alla procura della Repubblica di Arezzo. A mettere assieme le carte, raccogliendo documenti e testimonianze, è stato l'avvocato Deborah Guarnieri. Attraverso lo studio legale si chiede così alla procura di capire se ci siano stati ritardi o negligenze che in qualche modo possano aver pesato sulla tragedia. L'esposto è contro i gnoti. Il comitato non vuole infatti puntare il dito contro nessuno. I familiari chiedono unicamente che venga fatta piena luce sulla vicenda, soprattutto nella fase iniziale, quando il virus è riuscito ad entrare dentro la struttura. La magistratura adesso potrebbe effettuare perquisizioni, sopralluoghi e l'acquisizione di cartelle cliniche e documenti. Il caso della RSA di Bucine è stato indubbiamente il più drammatico dell'intera provincia. Un intero piano, il piano zero della struttura, quello dei pazienti con disturbi cognitivi e comportamentali, ha visto infatti il contagio di 30 persone, 22 degenti e 8 operatori. Dopo le prime morti, il reparto fu chiuso, sanificato e gli ospiti presi in carico dalle ASLA. 41, infine, i casi positivi complessivi nella struttura.